Cambiano le frequenze del digitale terrestre. Questo ci permetterà di vedere con una qualità migliore i canali che abbiamo visto fino ad oggi e anche nuovi canali. Ma come facciamo a sapere se la nostra televisione è pronta a questo cambiamento? Se il televisore è stato acquistato prima dell'anno 2017 il nostro televisore non è pronto a questo cambiamento. Ma se non ci ricordiamo la data d'acquisto ci sono tre semplici passaggi che ci permetteranno di capirlo. Andiamo sul canale 100 della nostra televisione, facciamo la sintonizzazione dei canali e se sulla nostra tv apparirà la scritta test HEVC vuol dire che il nostro televisore è pronto. Se così non fosse possiamo passare da subito all'acquisto di un decoder. Per l'acquisto del decoder lo stato ha stanziato un fondo. Possiamo usufruire del bonus decoder che comprende 30 euro di sconto se avete un ISEE inferiore ai 20.000 euro. Oltre a questo possiamo fare anche il bonus rottamazione. Il bonus rottamazione prevede che voi portate in negozio una vecchia televisione, una qualsiasi vecchia televisione e avrete diritto a uno sconto del 20% sull'acquisto del nuovo tv fino a un massimo di 100 euro. Sperando di avervi tolto qualche dubbio vi aspettiamo alla Tecnovideo di Castelfiorentino o di Certaldo con il vecchio televisore. Buona visione!